L'inizio della mia notte di Giuliano. Cos'hai? Vale, ho deciso di rassegnare le dimissioni. Cosa? Giulia, ma sei sicura? Non dirmi che è una sua idea. Il mio Federico mi vuole bene. Adesso che la famiglia si è allargata, dice che non c'è bisogno che io lavori. Che ci penserà lui a me e al piccolino? Giulia ragiona, lui guadagna molto bene, ma tu così non avrai più un'entrata tua, non avrai più contributi per la pensione. Federico dice che con i due soldi che guadagno è più conveniente che lasci il lavoro, piuttosto che assumere una babysitter. Se sei convinta, perché hai quella faccia? Aggiunse Valentina con la voce di chi davvero non si fida. Solo un po' di agitazione, non sono brava con i cambiamenti. Non voglio che tu stia da sola con lui, ti verrò a trovare. No, non è il caso. Non dovrei sottrarre tempo alla famiglia per frequentare le amiche. Il mio Federico ha ragione su questo punto. Il tuo Federico mi ha stufato, sbottò lei, scattando in piedi e allungandosi sulla scrivania verso di me. Vale, si tratta della mia vita. È così che deve essere.